Buonasera a tutti quanti, questa sera fa abbastanza caldo, siamo qua a Brugherio Oggi è venerdì 7.07.2023 7 luglio 2023, beh stessa cosa Alle ore 23.42 se non mi sbaglio Andiamo a vedere a che ore sono, alle 23.38 scusate Ci sono una bellezza di quanti gradi? Di 31 gradi, dai si sta bene allora, non fa molto caldo Vi auguro una buona notte a tutti quanti, ci sentiamo domani Baci baci, ciao ciao